Gli interessati li attendevano da tempo, ma solo questa mattina sono stati pubblicati sull'albo pretorio del comune di Avellino. Gli indirizzi finalizzati all'attivazione di un bando per l'affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport Giacomo Del Mauro sono stati resi noti aprendo ufficialmente un nuovo scenario sul futuro. Dal 2008, infatti, la Sidigas Scandone Avellino godeva di un comodato d'uso gratuito che scadrà ufficialmente il prossimo 14 luglio. Come dato d'uso solo formale perché la Sidigas nel frattempo si era caricata del pagamento di un mutuo di 334 mila euro all'anno, tranne le ultime due rate gestite direttamente dal comune di Avellino. Entro quella data dunque Palazzo di Città si impegnerà a formulare un bando al quale potrà accedere chiunque vorrà prendere in gestione la struttura, avendone ovviamente la forza economica e le caratteristiche richieste. Si parte naturalmente dalle cifre. Il comune determina testualmente un corrispettivo anno di 270 mila euro oltre IVA soggetto al rialzo a favore del concessionario ritenuto congro ed in linea con i canoni medi di strutture a venti analoghe caratteristiche, premettendo che la struttura è ed è stata luogo di svolgimento del campionato di A1 di basket dell'Eurolega e degli incontri cestistici delle universiadi, facendo intendere tra le righe che una squadra di basket potrebbe essere agevolata nel calcolo dei punteggi utili alle candidature. La concessione che si andrà a stipulare con chi si aggiudicherà il bando durerà nove anni e si gestirà attraverso l'applicazione della procedura del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Ovviamente sarà valutato il punteggio delle società che parteciperanno, come detto. Nessuna restrizione, dunque, chiunque potrà prendervi parte, anche ad esempio la Sandro Abate, il team di calcio a 5 che ha appena conquistato la Serie A cerca casa e potrebbe avere la forza economica per fare una proposta. Da oggi in poi, dunque, sarà il momento di mettere a posto le carte, valutare i conti e comprendere le necessità. In primis dovrà farlo la scandone. Semmai, come è probabile, nessuno dovesse rispondere al bando in tempi brevi, Il comune di Avellino applicherà una deroga permettendo alla squadra di basket di giocare al Del Mauro, pagando un canone mensile. Poi si organizzerà il futuro. Lo sport terpino cerca casa, dunque, l'asta è aperta. È il momento di investire.